Buongiorno amici e amiche di FC Inter News e ben ritrovati con l'appuntamento delle 12 sul nostro canale YouTube del lunedì avvenuto di un video a profondimento per parlare insieme della nostra inter e oggi ritroviamo con noi Marta Abbasso, ben ritrovata Marta Ciao, buongiorno Allora Marta, oggi è la vigilia di ITER LATIO, semifinale, no? Il nuovo format della Supercoppa italiana, le Final Four Vedremo quale sarà, no? L'esperimento, come andrà quindi è una giornata molto molto importante hanno parlato questa mattina per noi appunto nell'ora appunto italiana già a Michitalia e a Ninzaghi quindi trovate le due conferenze stampa sul sito integrali di FC Inter News vi invito appunto a recuperare soprattutto le parole del mister Ninzaghi che ha parlato di tanti argomenti e secondo me è la certificazione del suo miglioramento dal punto di vista comunicativo ha risposto ad Allegra, ha risposto anche no al voto di Lukaku quindi vi consiglio di recuperarla voglio parlare con te Marta però di calcio mercato perché nelle ultime ore stanno arrivando notizie veramente veramente importanti e partiamo dall'attacco anche partendo da una frase che Inzaghi ha rilasciato in conferenza stampa quando gli viene chiesto appunto del mercato degli attaccanti lui dice sono tranquillo perché la società sta lavorando è chiaro che qualcuno magari allude già a un colpo in questa finestra di mercato sappiamo come in qualche modo l'Inter ribadisce come il mercato in entrata sia chiuso a meno che Sanchez magari non decida di cambiare subito a gennaio Tarim invece ci possiamo sbilanciare Marta è un affare ormai apparecchiato, un affare fatto io ti chiedo, secondo te se noi pensiamo a un attacco con Lautaro, Turam, Arnautovic perché è chiaro che Tarimi andrebbe a occupare il vuoto lasciato da Sanchez e appunto Tarimi può essere già questo il pacchetto attaccanti in vista della prossima stagione? Basta questo? Beh sarebbe tanta roba però ecco adesso faccio l'avvocato del diavolo mi beccherò gli insulti anzi non mi insultano qui sotto che è sempre bello un po' l'avvocato del diavolo io dicevo che era tanta roba anche Sanchez Arnautovic più Lautaro Turam cioè quindi vediamo comunque Meditaremi è un calciatore che abbiamo avuto modo già anche dai mondiali oltre che al porto di come dire ammirare in qualche modo e credo sia una cosa passatemi il termine diversa da quella che siamo abituati a vedere in questa Inter da capire come si integrerà che posso far meglio di chi c'è ora direi che c'è poco da dire sono curiosa di capire come si è un problema positivo però sono curiosa di capire come si svilupperà il tutto perché io ho molti dubbi che Taremi venga per fare la terza o la quarta punta non credo proprio quindi vedremo vedremo che cosa succederà però io sono contenta penso anche penso anche Raffaele che dipenda molto da quello che succederà poi in uscita per cui lo dovremo valutare insomma perché siamo qua a fare dei conti ogni volta e poi arriva Luca di turno lo screener di turno che ti cambia i programmi e non te l'aspetti quindi posso solo dire vediamo ok diamo un po' le cifre i dettagli di questa operazione praticamente Taremi è in scardezza di contratto quindi arriverà all'Inter in estate come parametro zero il nesimo parametro zero targato Marotta è ausilio lui ora è impegnato nella Coppa d'Asia con l'Iran appena terminerà la competizione si 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 definiranno gli ultimi dettagli tra le parti si parlano di un biennale con opzione per il terzo con un ingaggio da tre milioni di euro a noi giù di lì quindi comunque è anche un'operazione parliamo di un giocatore che ha comunque trentuno anni quindi ha esperienza però ecco non è ancora arrivato al capoline della sua carriera quindi secondo me potrebbe dare molto ed è comunque un tipo di attaccante che abbiamo anche affrontato noi in Europa ormai ha una maturità anche per giocare determinate competizioni e dobbiamo ricordare che il trentuno agosto tra il trenta e il trentuno agosto era un passo dal Milan quindi sarebbe un altro attaccante come Turam rubato speriamo poi sarà quello che come Frattesi e come Turam arriva all'Inter e dice in realtà io avevo già scelto non ho mai avuto dubbi quindi capiremo poi quali saranno gli sviluppi che pare che l'Inter sia anche sulle tracce di Gudmus del Genoa che è comunque un profilo molto molto interessante capiremo anche quello che l'Inter dovrà fare con Manetti in Carboni se lasciarlo a Milano farlo essere uno degli attaccanti della prossima stagione però è chiaro Marta pensiamo anche al fatto che l'Inter è anche molto avanti con i rischi che sarebbe un ennesimo per colpa parametro zero possiamo già dire che l'Inter è già impostata per la prossima stagione cioè tu aggiungi Taremi aggiungi Zierisi come hai detto tu bisogna sempre stare attenti ai casi di calciomercato le offerte che arrivano perché l'Inter ascolterà sempre tutte le offerte che arriveranno perché anche tutti i club fanno così magari c'è un po' da definire la situazione di Dunfriss perché in scadenza di contratto nel 2025 non si è trovato l'accordo ancora per il rinnovo di contratto c'è distanza tra domanda offerta poi che si fa cioè l'innovo di massima è tutto apparecchiato cioè vivremo forse l'estate più tranquilla degli ultimi degli ultimi anni allora ne dubito fortemente però è anche vero che questo è quello che le grandi squadre fanno cioè non dover vivere alla giornata non sapere di che morte morire direi che è una gran cosa io l'unica cosa che mi sento di dire perché sarebbe disonesto non dirlo e che credo che in qualche modo possa toccare in qualche modo quello che noi stiamo pianificando è che al netto perché questa è una roba che a me poi sta sulle scatole in maniera enorme cioè non è che l'Inter deve cedere perché Marotta ha detto bisogna fare una cessione importante ogni anno cioè non è quello il tema non è che l'ha deciso cioè non so come dire però sono anche cose che possono accadere ok ti faccio un esempio possiamo non pianificare di vendere Cialanolu per dire però Cialanolu è relativamente giovane nel senso che ha una trentina d'anni e quindi non è un calciatore diciamo vecchio specialmente per il ruolo che fa secondo Cialanolu l'hai preso gratis quindi praticamente se te lo comprano adesso sto scherzando ma se te lo comprano a un euro più gli coprono lo stipendio quindi tu non devi pagare niente perché non hai in prestito l'hai ceduto tu hai fatto una plusvalenza quindi è chiaro che per come sta giocando Cialanolu adesso e per il contratto che ha Cialanolu ci può essere un rischio che lui sia una pedina attraente ora l'Inter lo vuole vendere non credo però è anche vero che se accade una cosa del genere tu dopo devi andare a prendere probabilmente sei anche tutelato in parte dicendosi prendosi e l'inschi mette un altro centrocampo bisogna capire se non ti io ecco dubito che l'Inter punterà su Aslani completamente nel caso dovesse succedere una cosa così magari anche sì quindi starei comunque col fiato sospeso perché questo è quello che ormai noi tifosi ci siamo abituati a dover fare detto questo non credo che cioè non non so come dirti non credo che ci sia altro da commentare cioè guardando i calciatori che arrivano uno Zielinski ma anche lo stesso Taremi che cambia anche campionato cioè e vengono Taremi cioè quello che sia Zielinski che Taremi vengono sapendo di avere una concorrenza assurda e nonostante questo loro vengono e vengono con gioia cioè non è che li hanno cacciati appenate dal club c'è un grande lavoro da parte della dirigenza nel senso fra che si arriva sapendo che c'è Mkhitary sono chesi Turan cioè Turan arrivava probabilmente anche disconnesso dalla questione di Lukaku sì 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 arriva prima arriva prima del prima del tutto il caos generato da Lukaku quindi succederà una cosa simile con Taremi cioè fosse rimasto Lukaku c'avevi Lukaku Turan Lautaro io sono sicura che Turan sarebbe emerso con Lautaro lo stesso perché penso si trovi molto meglio che con Lukaku e viceversa e Lukaku cosa lo tenevi a fare soprammobile a fare il belotti della situazione cioè ecco vabbè questi ovviamente sono scenari alternativi però forse ecco la passata estate ci dimostra come nel calcio mercato può succedere davvero di tutto come tutto cambi da un minuto all'altro perché a volte salta una trattativa e c'è l'utente che dice voi avevate detto che ma in realtà il calcio mercato non è una scienza esatta questo lo dobbiamo ripetere ripetere ogni volta quindi è chiaro che l'Inter ha cambiato tanto la passata estate la passata estate e quindi ha avuto delle risposte importanti e quindi secondo me andrà veramente a ritoccare poco poi è chiaro che vanno definite alcune situazioni abbiamo citato Dumfries dobbiamo citare anche Audero che è ancora in ballo il riscatto dobbiamo citare Sanchez che comunque dovrà lasciare l'Inter Quadrado siamo sempre in attesa di vedere all'opera Buchanan forse sarà anche lui un vero acquisto soltanto a partire dalla prossima estate mentre dobbiamo dire che Sanchez è un passo dall'Ester hanno trovato un accordo di due club per 2 milioni di euro quindi legati anche alle presenze alla promozione in Premi League ma non ci dovrebbero essere problemi in tal senso però l'Ester deve prima liberare uno spazio in rosa quindi cedere un calciatore i club inglesi anche se di Serie B però anche loro sono costretti a fare spazio per comprare un calciatore per 2 milioni di euro quindi Sensi in uscita insieme ad Agumè che è passato al Siviglia in presto l'Inter comunque c'è anche la situazione di classe da definire non credo che verrà confermato quindi diciamo che in palcatura la dirigenza dell'Inter è a lavoro da mesi e quindi veramente si sta andando verso sempre una direzione di un progetto più solido ancora forse migliorato rispetto a questa stagione qui però è chiaro che poi tutto passa dal campo Marta io ti ringrazio ti saluto e ti auguro una buona Supercoppa con la speranza di vincere la terza di fila l'Inter d'Arabia grazie mille ringrazio anche tutti coloro che ci hanno ci hanno seguito mi raccomando noi ci vediamo questo pomeriggio ore 19 per vivere insieme la vigilia di Inter Lazio semifinale di Supercoppa italiana in programma domani sera a Riad e non mi resta che lasciare con un calorosissimo sempre forza Inter grazie a tutti